Dal nostro Roberto le foto della squadra Asgardor Torino Io sono il portiere e il capitano Questo è lo scambio Il rinvio magnifico Calcio d'angolo Mischio Qui la panchina con i due visti i primi due della fila sotto sono fratelli Passaggio Punizione Risultanza per gol Calcio d'inizio In questo caso il secondo tempo Colpo di testa Il mio rinvio Di nuovo Il mio rinvio E qui è la fine delle nostre foto Grazie a tutti e visitate il mio canale 12 Mega Roberto Ciao Ciao Ciao